Dieci varchi elettronici, quattro comuni insieme con la collaborazione del supporto tecnico di Pasubio Tecnologia. Oltre 120.000 euro di investimento finanziario complessivo con la compartecipazione economica della Regione Veneto. Sono questi i numeri e i protagonisti del progetto, ora divenuto realtà, del nuovo sistema di varchi elettronici che renderà possibile un più efficace monitoraggio della viabilità sui territori di Tiene, Sarcedo, Zanè e Zuliano da parte delle forze dell'ordine. I varchi rilevano il passaggio di veicoli rubati o inseriti in blacklist e di veicoli con assicurazione o revisione scaduta, inviando agli agenti un allarme. Inoltre il sistema mantiene secondo i termini di legge il database dei transiti su tutti i varchi per le finalità della polizia giudiziaria. Controllo del territorio ai fini investigativi, tenuta del parco veicoli pulito dai furbetti senza assicurazione e dalle auto non in regola con le norme ambientali. Sono questi gli importanti obiettivi che i sindaci del territorio si prefigono di raggiungere.